Ed eccoci qui in un nuovo podcast e oggi parleremo di un attore che ha un fascino scenico che non lo troverete da nessuna parte forse appartiene soltanto a tutti quei attori che fanno parte della sua generazione lui è nato il primo giugno 1937 a Memphis negli Stati Uniti e adesso vive tranquillamente e si gode una pensione ma non così certa perché si spera che si possa rientrare al lavoro con la riapertura anche dei cinema e l'aumentare dunque delle produzioni posso tornare subito al lavoro e stiamo parlando di Morgan Freeman e sicuramente tutti noi, tutti voi che state ascoltando lo conosciamo per un film in particolare ovvero ha dato il volto a Dio, questo Dio che solitamente senza volto viene immaginato con la barba bianca, i capelli lunghi nell'ideologia classica che ha l'uomo si immagina così e così ce l'hanno presentato invece Nero in questo film Una settimana da Dio con Jim Carrey e Morgan Freeman qualche podcast fa io dicevo precisamente che delle volte Freeman riesce a fuscare proprio Jim Carrey ed è vero e reale in quella interpretazione ma sicuramente non fa parte delle migliori interpretazioni di Morgan Freeman anche se iconicamente suppongo verrà ricordato soprattutto per questo riprenderà anche il ruolo di Dio in Un'impresa da Dio con Steve Carell che comunque non trascina allo stesso modo come faceva in Una settimana da Dio quindi già qua ci sono delle divergenze Morgan Freeman ha fatto cose belle, cose meno belle ma sti cazzi, lui e Morgan Freeman si può permettere qualunque cosa secondo il mio punto di vista l'esordio al cinema di Morgan Freeman, pure lui essendo nato nel 1937 arriva nel 1964 ed è un bambino fenomeno potremmo dire perché già il debutto teatrale lo fa a otto anni grazie alla scuola ovviamente siano benedette le scuole che hanno i laboratori scolastici e permettono ai giovani attori di poter andare in scena a dodici anni, pensate, a dodici anni vince una competizione statale di recitazione sembra l'inizio di una grande carriera eppure nel 1955 lascia la recitazione per fare il meccanico negli US Force l'US Force sarebbe l'aviazione degli Stati Uniti d'America quindi lavorerà a sistemare gli ingranaggi degli aerei praticamente quindi si allontana per questo periodo dalla recitazione e comincia a lavorare poi lavora a Los Angeles per quanto riguardava un'azienda di trascrizione e si comincerà a spostare pian pianino a New York dove intraprenderà lo studio del balletto e comincerà a lavorare come ballerino pensate un po' ed è molto importante segnalare questa cosa perché il portamento di Morgan Freeman è evidente in tutti i ruoli che fa se ci fate caso anche per quanto riguarda l'action anche se io devo dirlo per il mio gusto personale non amo ricordare Attacco al Potere tra i lavori migliori di Morgan Freeman poi si sposterà comunque nel corso della sua vita a San Francisco e suonerà anche in una band che si chiama Opera Ring quindi diciamo così c'è grande varietà dal punto di vista artistico per Morgan Freeman e come dicevamo l'esordio cinematografico avviene nel 1964 pur avendo fatto del teatro precedentemente l'esordio è con un film che prende il titolo dell'uomo del banco dei pegni sicuramente c'è un binomio da sottolineare per quanto riguarda la carriera di Morgan Freeman e questo demonio questo demonio sì come no non è un demonio ed io ricordiamolo questo binomio è costituito da Clint Eastwood che è amico di Morgan Freeman tant'è vero che anche con la pellicola Million Dollar Baby vincerà dopo quattro candidature credo sia questa sarà la quarta candidatura e saranno cinque poi in totale per Morgan Freeman e riuscirà a vincere l'Oscar come miglior attore non protagonista ma non sarà l'unico lavoro che farà con Eastwood perché precedentemente avevano lavorato con gli spietati altro film molto interessante sempre questi toni accesi molto americani come è solito fare Clint Eastwood nelle sue regie e poi Invictus dove credo che questo sia il film dove Morgan Freeman visivamente non possiamo fare a meno di notarlo richiama proprio il personaggio di Nelson Mandela ed è identico sotto tantissimi aspetti e poi dobbiamo segnalare che l'esordio assoluto quindi il successo che lui raggiunge avverrà con una soppopera è un po' strano immaginare Morgan Freeman all'interno di una soppopera almeno dal mio punto di vista ora non so se voi riuscite a immaginare questo attore che lavora una soppopera ora immaginate Morgan Freeman nel segreto ditemi un po' se voi lo vedete o pensatelo in Italia pensiamolo, non lo so, in Carabinieri in Cento Vetrine io non riesco a vederlo per bene e comunque il successo lo conosce così quindi si passa un po' da tutto pur di poter lavorare e di fare questo mestiere quindi c'è tanta gavetta da parte di Morgan Freeman esattamente come dicevo per Anthony Hopkins noi non ce lo ricordiamo nel passato con un viso diverso da quello che ha oggi già da grande perché il successo non è arrivato immediatamente poi è diventato iconico proprio per quel ruolo di Dio a fianco di Jim Carrey in una settimana da Dio e che possiamo farci? la gavetta va fatta anche per i più grandi quindi pensate quante persone in questo momento stanno facendo la gavetta ma neanche lo sappiamo poi c'è un film davvero molto importante che lo porta al successo comunque viene conosciuto soprattutto nell'ambiente hollywoodiano gli permette anche una candidatura agli Oscar ed è a spasso con Daisy questo a spasso con Daisy tra l'altro verrà poi reinterpretato riprenderà il suo ruolo che aveva nella pellicola e lo farà anche a teatro ci sarà il film Seven che io non apprezzo più di tanto ma che comunque consiglio di vedervi con Kevin Spacey è Brad Pitt perché comunque una buona pellicole ha avuto a riscosso dal punto di vista del botteghino e della critica dei buoni giudizi e quindi da entrambi i lati famoso Morgan Freeman anche per aver interpretato Lucius Fox un personaggio della saga di Batman nella trilogia diretta da Christopher Nolan con Batman Begins il Cavaliere Oscuro e il ritorno del Cavaliere Oscuro ora un dubbio non mi ricordo se nel secondo film è presente comunque Lucius Fox ma credo di sì credo ampiamente di sì tra l'altro e Morgan Freeman soprattutto dobbiamo ricordarlo per un film che è considerato dalla critica il film più bello di tutti i tempi questa è la critica che lo dice ovviamente poi il pubblico può avere un parere completamente diverso o noi nella nostra opinione personale possiamo avere un parere diverso questo film che è bellissimo sotto l'aspetto emotivo molto probabilmente è le ali della libertà in questa classifica viene fatta dalla critica che considera a pari merito per quanto riguarda le serie tv al primo posto Breaking Bad consiglio di vederle è un film struggente anche per certi aspetti non vorrei spoilerare nulla perché comunque magari è un film che non si è visto però c'è un'interpretazione molto molto trascinante di Morgan Freeman ma il film in sé pur essendo struggente in alcuni dettagli in alcune situazioni ci colpisce e colpisce anche lo spettatore che lo ammira questa è un po' la carriera più o meno di Morgan Freeman che poi nel 2010 farà anche uno show tutto suo però a forma di documentario sulla scienza si chiamava Morgan Freeman Science Show è molto importante sottolineare che ha fatto anche i lavori da doppiatore è bello da sentire in originale l'ho sentito proprio poco fa ed è la sua voce penetrante praticamente ti entra ovunque in ogni viscera del tuo corpo ti inonda le vene con la sua voce ed è intro la voce narrante più che l'intro della guerra dei mondi di Steven Spielberg che è uscito nelle sale cinematografiche se non vado errato nel 2005 ha fatto due lavori anche da regista che sono comunque due lavori abbastanza dimenticabili uno prende il titolo di Boffa è scritto B-O-P-H-A del 1993 e Madam Secretary del 2015 che è una miniserie tv io credo che tra l'altro sia stato messo in onda soltanto un episodio quindi non sono cose di grande successo però ripeto gli errori li hanno fatti tutti e in una carriera come quella di Morgan Freeman possiamo possiamo anche tranquillamente dimenticare gli errori abbondantemente anzi dimenticarli quello che penso è che Morgan Freeman è un gran figo prima di tutto perché quel volto è quel portamento che porta con sé gli fanno avere quel fascino scenico che è immenso infinito in alcune interpretazioni basta un suo sorriso per praticamente farti trascinare all'interno della pellicola ed è molto importante vederlo proprio nelle ali della libertà vorrei chiudere con una frase che non appartiene a Morgan Freeman ma sicuramente ce lo ricorda in diversi aspetti e non ricorda soltanto l'attore che lo pronuncia perché Morgan Freeman è un grande attore che ha offuscato anche gli altri ruoli di coloro che sono stati accanto a lui non se ne può fare a meno stando accanto a un uomo un artista un attore di questo calibro la vita è un biscotto ma se piove si scioglie